Il tentativo è in atto ed è finalizzato a scongiurare lo sciopero previsto per domani e dopodomani a sciacca da parte dei lavoratori della SRR, in forza alle ditte che gestiscono il pianuaro. Se lo sciopero dovesse essere confermato, slitterebbe anche la rimozione dei cassonetti nelle sei nuove località, dove già da questo fine settimana si prevedeva di avviare il porta a porta. San Marco, Maragani, Foggia, Tabasi, Fontana Calde, Soveretto, Parte Sud. Noi vorremmo farlo partire il più presto possibile, naturalmente dobbiamo dare un po' di giorni alla gente, ai residenti, per poter ritirare i mastelli. L'obiettivo dell'amministrazione è già togliere i cassonetti per il fine settimana, ma considerato che ci potrebbe essere lo sciopero alle porte, allora dobbiamo stare molto attenti perché eliminare i cassonetti stradali e non avere nemmeno il servizio porta a porta diventa complicato. La decisione di includere queste nuove zone in quelle che già effettua nel porta a porta risponde a diverse esigenze. Non è solo rimanere dentro quella che è la soglia che impone la regione, è anche importante perché se vi è la possibilità di offrire un servizio alla collettività a costo zero per il comune e quindi di conseguenza anche per i cittadini, secondo me è una valutazione interessante anche perché andremo ad eliminare in quelle zone di transito i cassonetti stradali che sono un'attrazione per alcuni residenti. Quindi ci siamo accorti che spesso gente che proviene da zone servite dal porta a porta si serve dei cassonetti stradali. Allora eliminando le postazioni dove ci sarà il porta a porta riduciamo quelle presenti sul territorio, verranno tutte messe come postazioni di prossimità, quindi si farà la differenziata anche sui cassonetti stradali dove rimarranno e poi ci verrà anche più facile controllarli. Intanto la situazione rimane critica relativamente agli impianti. Oltre alla discarica di Contrada Salinella, la batosta in termini di ulteriori costi del servizio è legata anche alla chiusura del centro di compostaggio di Contrada Santa Maria. Trasportare i rifiuti fuori, andare in discariche dove non ti danno la garanzia di un conferimento continuo perché noi siamo ancora a metà luglio, ma quando arriverà la fine luglio o il mese di agosto ci rendiamo conto che potranno esserci degli altri problemi e se le discariche continuano a chiudere i problemi sicuramente aumenteranno. Il centro nostro di compostaggio quando potrà essere riaperto? Era stata annunciata un'apertura per il 5-7 di luglio, abbiamo parlato con il presidente della SRR, ci hanno detto i primi giorni della prossima settimana e allora anche lì è passata la linea che noi predicavamo da tempo cioè di fare entrare solo quei comuni che sono in regola con i pagamenti perché non è possibile che in questi mesi in questi anni addirittura ci siano comuni che avevano anche arretrati di 18 mesi e poi vedere che l'impiantistica non veniva messa a norma per mancanza di fondi è veramente un paradosso.